Oltre al ponte, l'Arzilla e il Lido hanno a che fare con un altro problema. È il tendone posizionato proprio davanti al nuovo passaggio ciclopedonale di recente installato che collega le due spiagge molto frequentate. Il forte maltempo e le violente raffiche di vento dello scorso 2 agosto hanno rotto infatti i ganci che tenevano ben ancorato il tendone, lasciando così una parte è scoperta. La struttura ora transennata e messa in sicurezza era stata letteralmente spazzata via sempre dal forte vento nel febbraio del 2016 e poi ripristinata a luglio dello stesso anno. Ora dovrà essere di nuovo sistemata ed è già pronta la risposta del comune. Dunque per il tendone del Lido stiamo lavorando per sistemarlo, diciamo già che domani inizieranno i lavori per sistemarlo e quindi si sistemerà lo squarcio e si riaccanceranno i cordoni e la spesa è di circa 3.000-3.500 euro. Quindi dovremo risolvere il problema nel più breve tempo possibile e aspettiamo domani per vedere quanto tempo ci vorrà.